Premier K, Peter Starlight, Proiettili GV, Pickering, Polinesi AOM, Pedru e Pinky e K in prima fila, in seconda Pink Lady e Poveglia, macchina che prende velocità, partiti in questo momento, c'è lotta per il comando, con Peter Starlight che ha scavalcato Premier K e Regge di fuori, Pickering e Polinesi AOM che insiste a largo, Peter va in vantaggio, c'è però lo scatto di Pickering che non ha posto nella scia del leader, dove c'è probabilmente Pedru, e così c'è un quarto iniziale molto molto violento, dopo il lancio in 13,7 addirittura 27,1, Pickering ha trovato posto nella scia di Peter Starlight che adesso rallenta immediatamente dai 500 di gara che però sono volati, quarto in corda il set di Pinky e K che però prende la via del largo mentre è da considerare fuori corsa Polinesi AOM e la scia di Pinky e K la prende Proiettili GV che si fa ben servire dal ritmo di corsa impresso dalla lotta fra i primi due nel quarto iniziale, adesso si va in rallentamento addirittura 32 scarsi per Peter Starlight che Willy Loder cerca di moderare, arriva però al suo fianco Pinky e K che sembra parecchio produttiva, René Legati arriva sui primi non avendo speso grandissime energie, chilometro sotto al 1,15, Peter Starlight in vantaggio davanti a Pickering che ha di fuori Pinky e K che si fa minacciosa, poi Pedru con Proiettili GV al suo fianco, intanto Galoppa Poveglia nel tentativo di avanzare e siamo all'ultima curva con un quarto in controllo in 31,1 ma con Pinky e K che si fa molto aggressiva ai fianchi di Peter Starlight, Willi Loder sembra controllare la situazione, non ha ancora mosso le mani mentre Pinky viene forte, all'ingresso addirittura d'arrivo, prova a riallungare, a riargomentare Peter Starlight che nel finale mantiene ancora una testa di vantaggio su Pinky e K, mentre di fuori c'è il numero 3 di Proiettili GV che batte Pickering che forse non aveva tantissimo spazio all'interno, si è chiuso forte 28,7 e vuol dire che sono due quarti importanti, quello di apertura e quello di chiusura da parte del favorito, il figlio di Tread Balance che viene a controllare la situazione ma lo fa a prezzo di una trottata in 1,14,1 se il tabellone in centro campo non la porterà addirittura sotto al 1,14 come spesso succede con l'arrotondamento e quindi potrebbe essere una misura davvero importante per Peter Starlight, numero 2 al traguardo, il raddoppio dopo quello diciamo di routine di Mauro Biasuzzi anche per Willi Loderer in giornata, 14,1 sarebbe già il record in carriera eguagliato per Peter Starlight.